Buongiorno a tutti, mi presento, sono Fabio Guadagnino di Napoli e abbiamo da circa 2-3 anni un'idea nuova di fare politica e l'abbiamo messa in campo per provare alle ultime elezioni comunali di Napoli, a qualcuno è piaciuta, con tutti quelli con cui abbiamo il piacere di parlare è piaciuta, abbiamo fatto esperienza politica, però mi attengo al tema di oggi che è la Costituzione e quindi partirei dall'articolo 1 della Costituzione italiana che recita che è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, però il lavoro purtroppo sappiamo tutti che quando è stato scritto questo articolo l'Italia del dopoguerra aveva prevalenza di un'economia agricola, poi ci hanno convinto che ad abbandonare le campagne per un lavoro più comodo in fabbrica e per fare i polli in batteria in città e quindi ci hanno istruito al consumismo, oggi il consumismo è fallito e quindi con esso il lavoro che sarà sempre più scarso per tutti credo anche grazie all'avvento delle tecnologie che fanno passi da gigante e quindi stanno sostituendo la forza lavoro umana dappertutto, si parla già di robot avvocati, robot agricoltori, quindi sappiamo bene dove stiamo andando a finire, però non sappiamo nessuno, nessun politico, nessun potente della terra ci indica la soluzione per l'umanità qual è. Quindi la cosa necessaria secondo me, se da cui si deve partire, è trovare la soluzione a questo problema perché se l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e il lavoro non c'è per nessuno, io penso che stiamo parlando del nulla. Quindi io penso che il lavoro c'è, però bisogna inventarsi nuovi lavori e noi abbiamo un territorio che da sempre potrebbe dare lavoro non solo agli italiani ma anche a tutti i disperati che stanno arrivando in Italia e i potenti della terra a cui l'Italia piace proprio per questo e ce la stanno togliendo di mano per questo motivo, perché l'Italia con la sua cultura, con la sua posizione geografica, con il suo paesaggio e con le sue tradizioni che la globalizzazione sta distruggendo, secondo me non è seconda a nessun paese del mondo e quindi il lavoro noi lo dovremmo trovare, bonificando i fiumi, bonificando i mari e nel turismo che deve essere la nostra risorsa fondamentale. Concludo e vi saluto tutti. Grazie dell'attenzione.